Lui conosce tutti, lui è pieno di pila, lui c'ha le ferrari, lui c'ha le barche e le ville, lui è amico dei più potenti, lui sa sempre tutto di tutti, Ma vorrami! Lui, lui è il cazzaro! Pronto amore? Cosa? Stai guardando la tv? Cosa? Antonella Clerici ti ha fatto venire voglia di tartufo? Ma sai che ho un carissimo amico che col suo pistolino, con una botta sola, prendeva un tartufo e lo riduceva in scaglie? Sai che mi manca? Quasi lo chiamo! Pronto? Franco? Sì? Ciao sono Luca Alba, come stai? Tutto bene? 30 lance! Luca Luca? Luca Alba! Ciaierie, tartufi, l'Achile Lauro, Agip, Galak, ti ricordi? Galak! Galak? Galak! Ma stai cercando chi scusa? Franco, 30 lance? Ah sì sono io, perdonami non ho... Eh ma allora non ti ricordi di me? Ti ricordi dell'Achile Lauro, la nave? Sì! Eh io l'avevo rifatto, la mia nuova barca che è un 90 metri, il Constellation... Adesso, 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 adesso un po' mi viene a niente, il Barca è un po' mi viene a niente... Eh... Io avrei bisogno di un'ospitata... Sì dipende come, dove e quando però... Sì... Comunque, guarda, è un po' se ne le menti qui, c'è un po' dipende quando è... Allora la festa è il 18 di dicembre... Ah beh un po' di tempo c'è... Sì, ha voglia infatti... Guarda è un venerdì, sinceramente, si svolge a St. Moritz che è a casa mia... Non è una casa come contesta... Allora, non è proprio una casa... Io ho uno chalet gigantesco che avevo comprato dalla figlia di Bruce Lee nel 2008... Sono dai la mail, io tra stanotte e domani mando un paio di formati e delle cose che faccio... Allora, Alba S.P.A. Chiocciola? Chiocciola... Tatufo d'Alba? Tufo d'Alba... Punto... Sony Qatar, tutto attaccato... Sony come la marca? Punto info... Sony Qatar... Sì, punto info... Alba S.P.A. Chiocciola, tartufo d'Alba, Sony Qatar, punto info... Perfetto... Allora, secondo me... Allora, di fatto che chi chiama me è una cosa ovviamente... Trasgressiva, tra virgolette, perché non è che... Cioè, sono sempre molto sobrio nei miei interventi, non è che... Io pensavo di farti entrare in soggiorno con una Vespa 50 Special... O che ne so... Una lambretta... Vestito da Tarzan, tutto cospasso di olio, ovviamente di tarturo... Tartufo... Sgommi e gridi... Quanto è buona la tartufa, meno male che c'è Luca... Sì, ma quello è quello che si può fare... Ah, ma che cazzo è? La patata cosa è meglio, non lo so... Poi scendi dalla Vespa e con un tartufo in mano gridi... Vedete sto tartufone? Non vi sembra un po' coglione? Nooo... Pronto amore? Che bello ritrovare gli amici perduti! Cosa? Cosa? Se fa ancora quel giochino di ridurre il tartufo in scaglia col pisello? Ma sì! Pensa! Mi ha detto che adesso lavora a St. Moritz per la figlia di Bruce Lee! Secondo me il tartufo gli ha dato la testa... Continuava a farmi le rime... Comunque ci ha invitato il 18 di dicembre sull'Achille Lauro... Quindi tieniti pronta... E mi raccomando... Non fammi far figure... Che io non sono un mio compagliaccio... Ma no... No... La figlia di Bruce Lee... Ma non ha avuto una figlia o sì? Lo chalet della figlia di Bruce Lee... A St. Moritz... Ma è bellissimo... La parte principale, in centro ragazzi... Cazzo di... Andate a Comacchio voi... Vati! Ricordate un castello a Cinisello... Va bene... Grazie a Pippo Palmieri... Marco fammi ricordare l'evento... Guarda come... Qua non c'è problema di tempo... Quando devi ricordare i tuoi eventi di merda... Ma no è importante... Perché insieme a Spagna e ad Alan e a Santina... Saremo all'antica Sacilla Pordenone... Alan se la tromberà... Idromassaggio... 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 Grazie ovviamente a mio fratello DJ Spagna... E quella mignotta di sua mamma... Oh figlio di puttana... Eh no perché prendo il primo aereo... Vengo a prenderti e calci in culo... Ti voglio bene anch'io... Grazie alla Poppy Poppy... Alan e il nostro direttore... Che sono ancora a difenderci in tribunale a Roma... Grazie a Luca Alba... Grazie amici... Grazie a Marco Dona... Grazie a Fabio Lisei... Grazie a Paolo Nois... Thank you very much... Grazie a Mr. Marco Mazzoli... Il genio... Grazie alla culpa di Viatturati... E soprattutto alla grandissima... Meravigliosa unica famiglia... Sulla pagina di Facebook... Ci risentiamo domani alle due... No domani no... Domani è sábado... Ah sì però domani c'è la compilation... No compilation... No compilation... Ci risentiamo domani... No non le... Mica è già venerdì oggi... Vole il tempo con i friends... Devo montare le scenette... Che pari... No... Ma passerò il weekend in radio allora... Ciao a tutti... Ciao a tutti... Ciao... Ma bene...